In questo video ti voglio illustrare le diverse soluzioni disponibili per effettuare un'installazione locale di WordPress, ossia per predisporre sul tuo computer, pc o mac che sia, un'installazione privata e personalizzata di WordPress. Solitamente quando si pensa a installare WordPress si considera, nella maggior parte dei casi, un'installazione effettuata su un hosting remoto, ossia su un server normalmente accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in modo che il tuo sito sia accessibile sempre da chiunque e da dovunque, ossia in qualunque parte del mondo chiunque possa vedere il tuo sito. Quando invece si parla di un'installazione locale, si parla normalmente di un'installazione effettuata proprio sul tuo computer, sul tuo pc o sul tuo mac in modo che solo tu possa accedere a quel sito. A questo punto però ti chiederai perché dovresti effettuare un'installazione locale di WordPress e non puoi tranquillamente installare WordPress su un hosting remoto e lavorare basandoti su quel server. Prima di tutto va detto che un'installazione locale non sostituisce un hosting remoto. Come abbiamo accennato prima, un'installazione locale ti consente di avere un'installazione di WordPress accessibile direttamente dal tuo computer, quindi non è necessario un accesso a internet ma chiaramente solo tu potrai vedere il tuo sito, quindi non è pensabile fare un'installazione locale pensando di rendere il proprio sito poi accessibile al mondo intero. Per quello è necessario installare WordPress su un hosting remoto. Un'installazione locale però presenta diversi vantaggi, ad esempio ti permette di sperimentare velocemente e senza rischi temi, plug-in o diverse configurazioni di WordPress. È utile per disporre di una copia di sviluppo del proprio sito, ad esempio nel caso in cui il tuo sito sia già online ma decidessi di sperimentare o un nuovo plug-in o una nuova versione del tema, puoi farlo sulla versione locale. Quando la copia è sicura e fate tutte le prove, il tema va bene, il plug-in non crea problemi, puoi duplicare il tema o il plug-in sul server in produzione, ossia quello online sul server di hosting. Rispetto a lavorare sul server, sul sito che è in hosting, lavorare sulla versione locale è decisamente più veloce perché puoi sfruttare le cartelle, i file presenti sul tuo computer e non devi necessariamente e costantemente caricare sul server remoto o scaricare le copie dal server remoto. Per installare una versione locale, in questo caso stiamo parlando di WordPress, ma è possibile farlo anche per altri CMS o altre tecnologie, diciamo, altre applicazioni web, esistono diverse modalità chiamate LAMP, WAMP, MAMP o XAMP, a secondo del sistema operativo sul quale sono installate. Vediamole però con maggiore dettaglio. Quando si senti parlare di LAMP normalmente è intesa un'installazione effettuata sul sistema operativo Linux con Apache come web server, MySQL o MariaDB come database server, PHP, Perl o Python come linguaggio di programmazione. Le iniziali di queste tecnologie formano appunto la parola LAMP. Quindi quando senti parlare di LAMP fondamentalmente Apache, MSQL e PHP sono la parte diciamo così standard anche in altri stacchi, in altri framework sostanzialmente. La variabile L identifica il sistema operativo Linux. Allo stesso modo quando senti parlare di WAMP, Windows e sistema operativo, Apache il web server, MySQL il database server, PHP, Perl o Python il linguaggio di programmazione. Andando avanti a questo passo potrai intuire che quando si parla di MAMP, Mac OS X è il sistema operativo, cioè il Macintosh, Apache web server, MySQL database server, PHP, Perl o Python il linguaggio di programmazione. XAMP è invece la soluzione diciamo così cross platform. La X infatti identifica il concetto di cross platform, cioè non è uno stack fortemente legato a un sistema operativo. le soluzioni XAMP possono essere installate tranquillamente su Mac, Windows o Linux e anche in questo caso Apache web server, MySQL o MariaDB database server, PHP perl o Python il linguaggio di programmazione. Per WordPress fondamentalmente è sufficiente che ci sia Apache come web server, MySQL o eventualmente MariaDB come database e PHP come linguaggio di programmazione. Per Python, per WordPress non servono. se utilizzi Windows esistono diverse soluzioni per poter installare WordPress in locale, come ad esempio WAM server, MAMP e MAMP pro per Windows, desktop server, XAMP, Bitnami e Vagrant. Anche per Mac esistono più o meno le stesse soluzioni a parte WAM server che invece è tipica per Windows. Su Mac puoi trovare infatti MAMP, MAMP pro, desktop server, desktop server, XAMP, Bitnami e Vagrant. WAM server è una soluzione espressamente per la piattaforma Windows e ti consente di avere Apache, PHP, MySQL a tua disposizione per poter installare WordPress o altri CMS basati su queste tecnologie fondamentalmente. MAMP e MAMP pro sono invece una soluzione disponibile originariamente per Mac da un bel po' di tempo anche su Windows che anche in questo caso ti consentono di avere server Apache, MySQL, PHP, supporto per Python e anche per il linguaggio Perl, nelle due versioni. Quella gratuita, che in pratica è la più semplice e facile utilizzare, o MAMP pro se necessiti di soluzioni un po' più avanzate, come ad esempio la possibilità di utilizzare diverse versioni di PHP su vari siti, potreste ad esempio avere un sito con supporto PHP 5.4, un altro con PHP 5.6, un altro con PHP 7. Gestire virtual server, ossia diversi siti, ognuno con il proprio dominio e in più altre funzionalità avanzate, come ad esempio anche la possibilità di consentire ad altri utenti della tua rete locale di vedere il sito ospitato sul tuo PC o sul tuo Mac. Desktop server di Serverpress invece è una soluzione che anche in questo caso ti permette di avere sia su PC, sia su Windows, sia su Mac, un web server locale, ma in questo caso la soluzione è fortemente integrata con WordPress. Grazie a questo sistema puoi con un semplice clic installare una copia di WordPress e iniziare a utilizzarla e due caratteristiche interessanti di questa soluzione sono quella di consentire la creazione di pacchetti preconfigurati di WordPress, sia quella nella versione a pagamento di poter sincronizzare facilmente l'installazione locale con quella remota. XAMPP invece è una soluzione cross-platform, cioè disponibile per Windows, Linux e Mac, che ti mette a disposizione Apache, MariaDB come server database, PHP o Perl. Bitnami è diversa rispetto alle soluzioni viste precedente perché ti permette di avere in un unico pacchetto tutto il necessario già preconfigurato per WordPress, quindi in questo caso tu quando installi un'applicazione, un container, un contenitore Bitnami, non installi semplicemente Apache, SQL o PHP, ma installi già un unico pacchetto con già WordPress preconfigurato e in questo caso puoi scegliere per l'installazione di, per la piattaforma Windows, per Mac o per Linux. Andando sulla home page di Bitnami puoi vedere che sono disponibili anche soluzioni per Joomla, per Drupal, per altri CMS fondamentalmente, però ogni CMS ha il suo pacchetto da scaricare. L'ultima soluzione è Vagrant, che fondamentalmente è indicata per i più smanettoni, gli utenti un pochino più tecnici. Non è proprio una soluzione così pronta all'uso come le altre, quindi l'ho accennata per dovere di cronaca, però sicuramente tra tutte quelle viste è quella un pochino più complessa da configurare e da gestire. Qualche considerazione finale sull'installazione locale di WordPress. Fondamentalmente poter disporre di un'installazione o sia di una copia locale di WordPress ti consente di provare questo CMS anche senza doverti appoggiare un hosting esterno, quindi soprattutto senza doverlo acquistare oppure attivare un account gratuito presso altre viste o altre soluzioni e poterci giocare e scoprire tutte le potenzialità di WordPress e vedere se comunque può fare al caso tuo come CMS. Ti consente anche di mantenere privato il tuo sito durante la fase di sviluppo. Supponiamo ad esempio che tu abbia un progetto, un blog o un'applicazione web da sviluppare, però non vuoi renderla disponibile ancora su web e preferisci lavorarci in privato, l'installazione locale è sicuramente la scelta migliore da questo punto di vista. Puoi anche testare temi e plugin senza preoccuparti delle conseguenze, mentre ad esempio scaricare e attivare un nuovo tema, scaricare e installare un nuovo plugin su un sito live, cioè in produzione, accessibile a tutti, presenta sempre qualche rischio potenzialmente, il locale puoi fare quello che vuoi, puoi attivare e disattivare temi e plugin senza preoccuparti delle conseguenze perché tanto solo tu vedrai quello che sta succedendo. E poi un altro vantaggio è quello di evitare lunghi tempi per l'upload e il download su e da il server remoto. Ad esempio su un server locale puoi tranquillamente trascinare temi, plugin, immagini, altri tipi di file da una cartella all'altra e sono già disponibili all'uso. Su un server remoto devi passare da FTP e caricare e a secondo della pesantezza del file questo potrebbe richiedere diversi secondi come svariate minuti o nei casi peggiori arrivare anche ad ore. Grazie per l'attenzione, per altre informazioni su WordPress non dimenticarvi di seguire il blog sull'indirizzo www.fogliata.net. Ciao!